buonasera buonasera amici amiche del canale buonasera dal vostro nick juve dovevo per forza fare quest'altro video se tendenzialmente lo sapete io faccio un solo video al giorno perché tempi lavorativi e altre situazioni non mi consentono di esporvi più volte quello che il mio pensiero su tante cose che mi accadono quindi non è il voler trascurare argomenti più o meno interessanti più o meno importanti ma questo argomento necessitava per forza di una mia opinione condivisibile o meno perché ovviamente il mondo è bello perché varia ognuno ha la sua idea e interpretazione sulle cose che possono accadere o meno e lì non sto a mettere il dito nella piaga a favore di chi la pensa come me o la pensa contro o non la pensa esattamente come quello che ascolta dalle mie labbra detto questo mi raccomando iscrivetevi al canale like anche a questo video e condividete al più possibile oggi per l'ultima volta così come è uscito si è messo fine si è messo un punto a quello che è stato il processo farzopoli si è aspettato 17 anni di ricorsi respinti continuamente per sentir dire e osservare oggi che essendo l'ultimo ricorso che poteva essere stato diciamo fatto si è alzato bandiera bianca non si tratta della questione come disquisendo anche in ciò con altri amici sai comunque saremmo andati contro un muro di gomma alla fine della fiera comunque avremmo perso ne saremmo usciti con le ossa rosse rotte e comunque era l'ultimo non avevi cosa fare comunque finito questo non avresti comunque avuto risarcimento danni né avresti avuto tornati indietro quelli che sono stati trofei che ti hanno tolto e hanno regalato ad altra squadra non discuto questo discuto semplicemente che sono schifato mi vergogno qui sì non come disse amadeus che si vergognava del processo farzopoli mi vergogno di non essere tutelato di non essere rappresentato da una società che tutte le volte tutte le volte si è fatta punire in maniera consenziente ha accettato tutte quelle che sono state le punizioni ammende retrocessione in b classifica da terzi a sesti o settimi come accaduto l'anno scorso con un altro processo inventato per sentimenti popolari perché purtroppo ci sono tra i magistrati tra la in lega in figici nell'aia personaggi che non sono di diciamo filone giuventino non è possibile assistere passivamente e continuare a non difendere noi tifosi e noi amanti del calcio e della tranquillità non è possibile che io vada a ricordarmi di questi 17 anni in cui moggi prese una chiavetta dicendo eccole qui qui ci sono le prove di tutto quello che avete commesso report fa una puntata intera una puntata intera laddove poi si parla giustamente delle fazioni che ci furono all'epoca del fatto che da un lato c'era umberto agnelli andrea agnelli moggi girau de bette che dall'altro c'era franzo grande stevens monte zemolo john elkan e tutto quello che disse ok punitela juventus e va bene quello è passato ormai in cavalleria così come successo oggi con questo alzare bandiera bianca tanto alla fine non ci daranno nulla alla fine non ci risarciranno di nulla e sono d'accordo perché quella squadra non la faranno mai più ricostruire quello squadrone che avrebbe disintegrato qualsiasi club in italia lo hanno ormai disintegrato quindi anche se oggi mi avessero dato 500 milioni di euro non avrei risolto nulla mi dà fastidio la presa per il culo nel non essere mai difeso da questa società me ne fotto che abbiano messo 700 900 i 200 milioni di adesso per ripianare il debito mi importa che tutte le qualvolte per sentimento popolare qualcuno ha mosso un dito per punirci per darci ammende per squalificarci per non farci disputare delle competizioni nessuno nessuno è mai riuscito a difendere questa squadra questi colori hanno solo e sempre patteggiato e accettato la qualunque con questo non voglio dire che le mie siano teorie né complottiste né disfattiste né esatte o sbagliate il mio pensiero il mio modo di vedere quello che ho visto nella realtà dei fatti fino a qualche mese fa abbiamo preso una punizione in classifica in ammenda e in punti per una cosa non commessa per un illecito non fatto per delle carte dove la procura di bologna ha detto il caso non sussiste la carta a ronaldo non è neanche mai uscita non si sa per quale motivazione quest'anno per il caso fagioli cosa vogliamo fare spiegatemelo voi chinare il capo tutte le volte che accada accade qualcosa per dire benissimo sì siamo noi quelli che facciamo i danni puniteci tranquillamente cazzo esser puniti per non far nulla ma è mai possibile una cosa del genere io non ci sto mi spiace se ho commesso qualcosa è giusto che paghi ma se non commetto un cazzo a continuare lì a star messo in mezzo ad essere preso per il culo io non ci sto non ci sto nella maniera più assoluta non esiste un discorso del genere se la società ha in mente ha in mente di ripulire il tutto per lasciare un prodotto da vendere senza alcun problema a chi lo vuole andare ad acquistare fondo americano fondo arabo chi che sia c'è da questa società non può esistere che io ogni due tre anni cinque anni o se vinco uno scudetto se vinco una coppa italia debba andare poi alla ricerca che qualcuno si alzi una mattina e inizi la catena della pallina che lanciata dalla montagna diventa improvvisamente un'altra valanga di merda dalla quale uscire per cose che poi alla fine non ho neanche commesso ragazzi non può esistere un discorso del genere non mi sento e credo tanti di voi non si sentano rappresentati affatto da un sistema marcio e da una società che non ha alcun interesse e intenzione di mettersi contro il sistema perché secondo me ne è esattamente complice né di più né di meno fatemi sapere cosa ne pensate like al video iscrizione mi raccomando e condividete il più possibile un grande abbraccio del vostro nick juve al prossimo